Spider-Man No Way Home Bene, ora che ho la vostra attenzione parliamo del terzo episodio di Hawkeye Wabalabadabadabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Serie TV, bentornati nella rubrica Marvel Continuiamo a parlare di Occhio di Falco Oggi alla terza puntata di Sei Totale, quindi ragazzi siamo già a metà, siamo già al Giro di Boa Le prime due puntate le abbiamo viste settimana scorsa Una serie che non stavo aspettando, ma senza... non nel modo negativo del termine Semplicemente non avevo hype, non ci pensavo, non pensavo neanche sarebbe uscita in questo periodo Ma che mi ha piacevolmente sorpreso la freschezza della serie, il fatto che non muova trame troppo mastodontiche Rischiando appunto di pestare le merde come hanno fatto altre serie Ma che sia focalizzata in una chiave un po' più intima, no? Perché anche Falcon and Winter Soldier era molto terrena come serie TV Però il fatto che Hawkeye sia più concentrata sul suo personaggio, sul suo rapporto con Kate Bishop Sulla sua storia personale Fa di Occhio di Falco, fa di Hawkeye Forse la serie, se non la migliore, comunque la serie più fresca, più genuina Che si guarda più volentieri Tutto condito con questo clima natalizio Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale Di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri Di condividere il video con tutte le persone che hanno un'ottima mira E di commentare qui sotto con quello che venne parso di questo episodio Il terzo episodio si concentra principalmente su quello che dovrebbe essere l'antagonista della serie Ovvero Echo, detta anche Maya Lopez Nei fumetti sia amore che villain di Daredevil Ma lo sapete, Daredevil è abituato a avere come proprie nemiche le ex Quindi nulla di nuovo sotto il sole Quindi, proprio perché è un nemico di Daredevil Molti hanno vociferato che prima o poi anche Charlie Cox tornerà in questo Marvel Cinematic Universe Di cui la sua serie in teoria faceva parte prima che la decanonicizzassero Per quanto riguarda Echo, oltre a essere legata a Daredevil È anche proprio legata a Wilson Fisk A Wilson Fisk che è stato una sorta di padre adottivo per lei Anche se Wilson Fisk non è un buon samaritano Wilson Fisk nei fumetti è stato un padre adottivo per Echo Proprio perché ha visto il suo potenziale Ha visto le sue capacità di memoria fotografica Portate in campo militare, in campo di battaglia E quindi vuole sfruttare Echo come un suo strumento di morte Un suo strumento di guerra Nell'episodio di oggi vediamo parecchie scene che ci avevano mostrato nel trailer Quindi a livello di azione credo che sia forse la puntata A parte quella finale magari Che più, dove più vedremo l'azione Onestamente ci sono stati un paio di punti dove la CGI Mi è sembrata un po' scarsa per una serie Disney Per una serie Disney Plus del Marvel Cinematic Universe Però glielo si perdona perché ovviamente Ho visto di molto peggio Cioè non siamo a livelli né di Doctor Who Né a livelli della CW Però appunto per una serie così ad alto budget Mi aspettavo qualche effetto migliore Ma proprio perché probabilmente non è poi così ad alto budget Hanno dosato la CGI al punto giusto In modo che si noti poco Fantastica la scena d'azione L'inseguimento che appunto avevamo già visto nel trailer In cui Kate Bishop impara a usare le varie frecce di Occhio di Falco Fantastica la freccia donatagli da Hank Pym O comunque contenente le particelle Pym In questo episodio hanno messo tanta carne al fuoco Hanno mostrato due macro argomenti Che poi penso verranno diciamo Dissipati meglio nei prossimi episodi Uno è il macro argomento della sordità di Clint Barton Del fatto che stia diventando sordo Del fatto che ha un apparecchio acustico Qua tutta la puntata è molto incentrata su questo Anche perché Echo stessa è totalmente sorda Mentre Clint lo sta diventando Quindi c'è questo rapporto Questo filo conduttore, filo rouge che li collega Mostriamo tutte le cose fastidiosi nel diventare sordi Ovvero il perdere parti del discorso Non capire bene quello che una persona dice Una persona dice una cosa E chi non sente bene ne risponde un'altra Facendo anche magari una brutta figura Sentendosi in imbarazzo Abbiamo visto la scena in cui Kate aiuta Clint a capire Quello che gli dice suo figlio al telefono Quando Clint cercava di sviare E di farsi scrivere dei messaggi Proprio perché Altrimenti non avrebbe capito bene La voce dei suoi cari Tutte queste cose Che ci hanno fatto entrare proprio tanto Nella In quelli che sono i reali problemi di chi ha Problemi di udito Insomma Sono stati Una bella aggiunta Alla storia del personaggio Come supponevo io Quando Echo ha visto che Clint Ha un apparecchio acustico Gli ha subito detto Che si affida troppo al suo udito Si affida troppo alla tecnologia E che starebbe molto meglio senza Quello che io spero di vedere È che Echo e Clint si alleno In modo che Echo riesca ad allenare Clint E gli faccia imparare a diventare bravo come lei Senza bisogno dell'udito La storia di Echo in questa serie tv È leggermente diversa dai fumetti Sembra molto più simile alla storia di Daredevil Vediamo che Lei è sempre stata sorda È stata cresciuta da questo suo Da suo padre Che non si poteva permettere la scuola per sordi Gli ha detto che proprio per questo Lei riuscirà a essere speciale Riuscirà a Diciamo passare Da un mondo all'altro Ed essere eccelleri in entrambi i mondi Vediamo Scopriamo che questa versione Di Echo Oltre a essere Sorda E anche Diciamo ha una protesi Ha una protesi alla gamba Adesso non so se è la destra o la sinistra Che è un'aggiunta Della serie tv Molto probabilmente Suppongo io E non ho controllato Magari l'attrice che hanno scelto Ha una protesi alla gamba Perché Echo nei fumetti Dal punto di vista fisico Almeno Che io ricordi Ho visto una scena in cui Stava imparando dei passi di danza Aveva entrambe le gambe Quindi hanno aggiunto anche questo Scusate il termine poco felice Questo handicap In senso più ampio del termine Forse per far vedere ancora quanto Echo Possa diventare straordinaria Letale anche se vogliamo Con le sue capacità Con le condizioni che la vita le hanno messo Ed è proprio in una scena Quando era piccola E si stava allenando Con suo padre Con gli altri ragazzini Nel dojo di quello che presumo fosse Judo Lì abbiamo intravisto Wilson Fisk Forse non lo avete notato Ma se ci fate caso Il papà di Echo dice Guarda che al ritorno Quando finirai la lezione Verrà lo zio a prenderti E vediamo Un'imponente figura Con la giacca scura Che dà una carezza ad Echo Quello è Wilson Fisk Anche se non lo abbiamo visto Anche se non l'hanno detto È Wilson Fisk Mi ci gioco un'unghia ragazzi Che è Wilson Fisk Poi magari Non vedremo Vincent D'Onofrio Non vedremo nessun Wilson Fisk Ma la presenza di King Ping C'è Tant'è che Sempre Occhio di Falco Nel tempo presente Dice che C'è qualcuno Sopra Echo Echo non è al comando C'è qualcuno Sopra di lei Che tira i fili E che è molto pericoloso Così pericoloso Che persino Ronin L'identità segreta di Occhio di Falco Nei cinque anni di Snap di Thanos Si è scontrato Diciamo con i suoi scagnozzi Ha messo Si è messo tra i piedi Della banda di King Ping Senza però mai arrivare a Esplicitamente a lui Quindi lui tuttora Non sa Se è Wilson Fisk Non sa Chi c'è dietro Ma sa che c'è dietro qualcuno E questo spiegherebbe il motivo Per cui non Non si sa bene Dell'esistenza Di un King Ping Nel Marvel Cinematic Universe Proprio perché È stato molto molto bravo A tenere nascosta La sua presenza Esattamente come aveva fatto In Marvel Daredevil Quindi Magari È vero È una variante Che non è stata ancora smascherata Dalle indagini di Nelson e Mark Da Doc Da Karen Page Da Daredevil stesso Oppure Potrebbe aver ripulito Il suo nome E essere tornato A essere un boss del crimine Non so come lo introdurranno Ma è chiaro Che l'intento È di introdurre King Ping Finalmente Il cane dei fumetti Viene chiamato Pizza Dog E in quella stessa scena Si tocca anche L'altro argomento Diciamo Che è caro A Kate Bishop Ovvero il fatto che Occhio di Far Occhio di Farco Ha sempre avuto Un profilo basso Dicevamo Ma cavoli Ma perché non è un costume più figo Perché non risalti di più Come fanno gli altri E Occhio di Farco Semplicemente Glielo ha spiegato Guarda che io sono Lavoro allo Shield Negli ultimi vent'anni Io ho lavorato allo Shield Il mio compito è Passare inosservato Come posso passare inosservato Se mi dai un costume sgargiante Questo anche per spiegare La sua presenza In questo mondo Di eroi Con i mantelli Svolazzanti Scudi Lucenti In cui lui È fondamentalmente Un uomo Con arco e frecce Bene Io sono molto entusiasta Di questa serie Spero di vedere Altrettanti episodi Altrettanto belli Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questo episodio Della serie in generale Se vi sta piacendo Se vi sta facendo Anche venire voglia Di Natale Io come sempre Vi ringrazio Per avermi seguito Fino a qui E con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E vi dico Arrivedorci Al prossimo video E con l'imbuto